Ciao a tutti, io sono Thomas e vi do il benvenuto nel canale dei CryptoFarm. Oggi parleremo di Stellar. Stellar, il cui token XLM è in sesta posizione del mercato delle criptovalute in termini di capitalizzazione, è una piattaforma finanziaria che permette veloci e sicure transazioni di criptovalute sia per le istituzioni ma anche e soprattutto per i privati cittadini. Il motto della Stellar Development Foundation, l'associazione no profit che sostiene il progetto, è Move Money Across Borders, Quickly, Reliably and for Fraction of a Pen. In pratica, utilizzando la blockchain Stellar, è infatti possibile trasferire criptovalute in tempi dai 3 ai 5 secondi per un costo praticamente inesistente. Stellar è nata in principio nel 2014 da un fork della gemella Ripple, questo per volere del suo fondatore Jeb McCaleb non più in sintonia con la filosofia iniziale del progetto. Ripple è un sistema che vuole principalmente aiutare gli istituti bancari nel trasferimento istantaneo di denaro virtuale. Stellar, invece, oltre a questo, vuole ampliare queste possibilità a tutti i cittadini col fine di permettere l'accesso al credito e al sistema finanziario anche agli underbanked. Successivamente poi, con l'aggiunta al board del professor Masieres della Stanford University, si è passati ad un nuovo modello di consensus, ovvero il Federated Byzantine Agreement. A differenza del Practical Byzantine Fault Tolerance Model, quello per intenderci che viene utilizzato dalla blockchain NEO, in questo nuovo modello tutti possono diventare nodi autorizzati e validare quindi le transazioni, in virtù del sistema dei Quorum Slice. Tale sistema permette agli utenti di formare dei sottoinsiemi validanti che, intersecati tra loro, generano il consensus e validano di conseguenza le transazioni. In pratica, un modello decisamente più democratico e decentralizzato che tenta di rispondere alle principali critiche mosse alla Proof of Stake in termini di eccessiva centralizzazione e che, come sostengono i suoi detrattori, va proprio contro la filosofia alla base della blockchain. XLM è una moneta che si basa su un meccanismo inflazionario preordinato, nel quale una prefissata quantità di lumen, per l'esattezza 1% della total cap, viene emessa annualmente sul mercato. Tale quantità viene elargita a determinati soggetti in base alle votazioni dei nodi che detengono i lumens. il sistema Stellar funge anche da DEX, cioè da exchange decentralizzato, nel quale gli utenti possono scambiare i loro token liberamente. Il progetto conta su notevoli collaborazioni, tra cui IBM, Deloitte, Stripe e molte altre. La partnership più importante è quella con IBM, con la quale stanno studiando l'emissione di una stablecoin, oltre ad altri progetti riguardanti la fornitura di sistemi di scambio di denaro per le istituzioni. Altra collaborazione importante è quella con la nota firma di consulenza internazionale Deloitte, per favolire l'utilizzo della blockchain a fini commerciali. Per quanto riguarda invece le news più recenti, il progetto, oltre al possibile listaggio su Coinbase, ha di recente ottenuto la Sharia Certification, una prestigiosa certificazione a livello internazionale e un passo fondamentale per estendere i suoi orizzonti commerciali ai paesi arabi. Ricordiamo che attualmente è l'unico progetto riguardante la Distributed Ledger Technology ufficialmente autorizzato in questo senso. Per quanto riguarda il team, sottolineiamo principalmente quattro figure più importanti. La prima è Bartek Novotarsky, una firma molto importante nella consulenza sulla sicurezza informatica, che ha lavorato e scoperto delle vulnerabilità anche in progetti come Facebook e Yahoo. Altra figura di rilievo è Ella Kiang, che si occupa più che altro delle partnership e, come abbiamo visto, sta lavorando in maniera veramente egregia ultimamente. Altri due sviluppatori molto importanti sono il professor David Masieres, della Stanford University, che come abbiamo visto ha implementato sostanzialmente il sistema di consensus del progetto, e Jed McCaleb, che è il deus ex machina nonché fondatore di Stellaro. Ricordiamo che McCaleb, oltre ad essere un co-founder di Ripple, ha anche creato MTGOX, quindi di sicuro una personalità nel campo delle criptovalute. Spero di aver sottolineato tutti gli aspetti principali di questo progetto e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a metterci un mi piace e vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo inoltre che qui sotto trovate il link per accedere alla nostra spreadsheet e i link ai nostri canali telegram, per poter rimanere informati sul cripto mondo in maniera puntuale e precisa. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi saluto e vi ringrazio. Ciao!